Prosegue la lotta al fenomeno delle fumarole ad opera delle forze dell'ordine, una lotta senza sosta e molto complicata dato che spesso è difficile individuare il punto di origine di un incendio fra le infinite trazzere degli impianti serricoli. Nonostante tutto l'impegno profuso dalle forze dell'ordine è massimo e nell'ambito dei controlli predisposti ad hoc dal comandante provinciale Carabinieri di Ragusa, i militari della Compagnia di Vittoria, nelle prime ore di oggi, hanno sottoposto ad attività espettiva numerosi appezzamenti agricoli di contrada di rillo ad Acate. In particolare i militari della locale stazione hanno concentrato la loro attenzione su alcuni terreni situati in quella contrada e dopo averla monitorata per diversi giorni è scattato il blitz, durante il quale sono stati rinvenuti numerosi e consistenti cumuli di rifiuti per svariate tonnellate costituiti da inerti, materiale plastico e rifiuti organici di ogni genere. Inoltre sono stati rilevati appezzamenti di superfici interessate dalla combustione di materiale plastico provenienti dalle serre agricole adeocenti e delle relative ceneri. Materiale quindi sottratto a regolare smaltimento. Trovati anche rifiuti vegetali provenienti dall'attività serricola. L'accumulo di rifiuti speciali e delle materie plastiche ed in particolare la loro combustione, lo ricordiamo, provoca lo sversamento nel terreno di liquidi e sostanze altamente nocive che possono inquinare il suolo e le relative falde acquifere, mentre nell'aria si liberano composti organici altamente inquinanti. E' scattata così la denuncia a piede libero per quattro persone. Si tratta di tre vittoriesi, un 46enne, un 21enne e un minorenne, e di un rumeno 25enne. Dovranno rispondere dei reati di abbandono, combustione e smaltimento illecito di rifiuti speciali, con emissioni diffuse in atmosfera di polveri. L'intera aria, di oltre 500 metri quadrati, è stata sottoposta al sequestro, e sono tuttora in corso accertamenti di natura tecnica finalizzati all'individuazione di corpi metallici nel sottosuolo, al fine di accertare il livello e la gravità dell'inquinamento prodotto.